La grande sinergia tra l'ADOC e il mondo della scuola ha valorato dall'iniziativa di oggi il senso della solidarietà e il senso della responsabilità. Sì, tali iniziative si possono fare solo attraverso delle utili sinergie. La sinergia attualmente è stata messa in campo con il comprensivo Commenda. Nell'ambito del progetto Educhiamo la gentilezza abbiamo avviato questa ulteriore tappa che mira il sociale con mettiamoci il cuore, doniamo per aiutare. Quindi una raccolta alimentare che ha visto i coinvolti vari plessi del comprensivo e vedrete poi il quantitativo di prodotti raccolti che mira a dare un aiuto in un momento difficilissimo per l'economia locale, ma non solo, alle famiglie Brindisina.